Ciao Liz, mi chiamo Clelia, sono di Roma. Se vieni a Roma ti porterò in tantissimi posti con molta cultura underground. Se vuoi ti posso portare al mercato di Porta Portese, dove c'è un mix di tantissime culture e quindi troverai molta gente da fotografare. Quindi ci vediamo presto, magari a New York, chissà. Ciao!